è carola palco che prende la testa di questa prima semifinale dei 500 metri sprint si qualificano alla finale i primi due di ogni batteria siamo al passaggio di meno uno Falco, Gatti, Visconti è Giorgia Campitelli che prende la testa di questa seconda semifinale in seguita da Fiarenda e ancora da Lea Corradini dai Asia, dai Asia, dai Asia meno uno al passaggio Capitelli pallonata da Fiarenda il gruppo si è subito compattato